io giordo ciao sei già collegato scusami ma abbiamo evidentemente anticipato un attimo però ne approfitto visto che sei già presente per scrivere per dire due cose che ho scritto su di te naturalmente che ho raccolto ma tu sei già un po michele ciao grazie per essere qui tra l'altro un orario con la cena e domenica quindi ti abbiamo strappato un po del tuo tempo ma siamo felicissimi e contentissimi eventi qua allora o volevo spiegare due parole prima ho fatto un breve cappello una breve introduzione volevo dire che tu hai avuto un'esperienza sicuramente interessante in seguito a una tua personale esperienza che hai avuto prima degli anni ottanta tutta l'altro farei facevi un lavoro che assolutamente ti garantiva un futuro certo e garante appunto sicuro avevi un lavoro fisso è un certo punto nella tua vita succede qualcosa dopodiché in seguito quel qualcosa quell'esperienza diretta avvistamenti conosci una personalità importante un certo eugenio siracusa e da lì il tuo mondo e la tua vita cambia poi ne parlerai tu la cosa incredibile che tu sei partito da quel momento è cominciato a viaggiare tutto il mondo io vorrei citare i paesi che tu hai attraversato per studiare capire raccogliere testimonianze intervistare sei andato in messico in argentina in perù in turchia in spagna in svizzera in inghilterra in germania in lituania in russia negli stati uniti in italia hai conosciuto di tutto e di più dai militari hai intervistato scienziati piloti cosmonauti contattisti insomma la tua vita è ricca di meravigliose fantastiche esperienze senza contare che viaggiare il mondo è qualcosa di unico e da lì è venuto fuori per giorgio caria con tutte le esperienze poi hai anche conosciuto lo stigmatizzato buongiovanni giorgio buongiovanni che tratto anche lui è stato intervistato qui da paola giovetti sulla nostra piattaforma e insomma la tua vita è cambiata nel giro di poco tempo io ti ringrazio davvero per essere qua io ti lascio la parola che perché hai tantissime cose da dire sicuramente anzi sono felice tra l'altro te lo dico con tutto il cuore davvero di rivederti ma soprattutto di lasciarti dello spazio più di un'ora siamo felicissimi di averti qui perché tu possa raccontarci un po la tua storia la tua esperienza soprattutto gli aggiornamenti se ci sono e se hai delle cose nuove e importanti da dirci perché noi siamo veramente molto affascinati dal mondo che tu hai studiato e che stai studiando grazie e mi sposto immediatamente lasciandoti la parola ciao ea dopo grazie michele grazie per l'invito grazie agli amici che in questo momento sono collegati per ascoltare quello che ho da dire michele ha fatto una brevissima un brevissimo riassunto di quella che è stata la mia esperienza di vita che come michele stesso ha detto indubbiamente l'incontro con eugenio siragusa è stato assolutamente catartico fondamentale nella mia vita devo dire però che prima ancora che eugenio potesse essere tra le mie conoscenze dirette io già avevo avuto delle esperienze in sardegna terra dove sono nato e ho vissuto fino a circa i 30 anni avevo già avuto esperienze dirette con la realtà ufologica fin da bambino cioè mi capitava ogni tanto di vedere questi oggetti a volte me li trovavo sopra la testa volte qualche volta mi si sono anche fermati davanti a volte me li trovavo di lato insomma c'era una presenza fin dall'infanzia che faceva parte del mio mondo reale quindi non avevo bisogno di credere negli ufo li vedevo per cui il termine credo era assolutamente fuori luogo ma a dire il vero non l'esperienza diretta non mi portava ad interessarmi e ad approfondire il perché di questa presenza mi accontentavo di quello che si diceva in giro insomma ma senza appunto dedicarci più di tanta attenzione fino a che è diventato macchinista ferroviere un giorno un collega di lavoro mi parlò di una persona che si incontrava con gli extraterrestri cosa che mi lasciò alquanto scettico e dubbioso perché nell'ingenuità di quel tempo mi dissi se fosse vera questa notizia sarebbe la notizia del secolo ne avrebbero parlato tutti invece che io sappia nessun tg nessun rotocalco di grande diffusione ha divulgato questa storia qui e quindi comunque pur nello scetticismo mi avvicinai ad eugenio a conoscerlo personalmente e invece l'incontro non solo non trovai una persona un fuori di testa o un mitomane ma trovai un grande saggio che aveva veramente tante risposte soprattutto aveva delle risposte a quelle che sono le eterne domande della nostra vita chi siamo perché esistiamo dove andiamo cos'è la morte c'è vita dopo la morte c'è la reincarnazione eccetera 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 una pletora enorme di tematiche appunto inusuali o addirittura relegate nell'ambito delle cose impossibili da capire o da sapere che la scienza addirittura snobba in un certo qual modo come il tema extraterrestre ritenendolo impossibile con le solite con le solite giustificazioni le distanze le distanze sono troppo grandi bla 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 tutte queste storie qui mi permetto michele scusa mi devo correggere un attimo il numero che hai detto tu hai detto c'è almeno un miliardo di pianeti simili alla terra nella nostra galassia in realtà con la missione che plero questo numero ha fatto un balzo spaventoso in termini positivi cioè fino a poco tempo fa e credo che magari siano stati pure aggiornati ma non ho verificato la nasa con la missione che plero missione di questa sonda lanciata nello spazio proprio per cercare esopianeti simili alla terra e le stime che ha dato la nasa credo un anno e mezzo due anni fa erano tra i 4 e i 17 miliardi di pianeti simili alla terra solo nella nostra galassia grazie per l'aggiornamento grazie 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 pianeti simili prego michele scusami se mi sono permesso di fare questo appunto ma i numeri comunque soprattutto in quella pseudoscienza o pseudoscientismo che molte persone che fanno tutt'altro nella vita si vantano di esprimere magari non essendo nemmeno informati e accontentandosi di quella pacottiglia maleodorante che viene data alle masse dai media non sanno nemmeno quello che la scienza quella ufficiale ha detto quindi dicevo 34 e 17 miliardi di pianeti simili alla terra solo nella nostra galassia il che significa pianeti con rocce pianeti con acqua liquida nella fascia cosiddetta riccioli d'oro o fascia abitabile così la chiamano gli astronomi gli astrofisici quindi la fascia riccioli d'oro e la fascia dove il pianeta non è troppo lontano dalla sua stella finché l'acqua con geli e non è troppo vicino affinché l'acqua evapori quindi con condizioni diciamo così ambientali tipiche del nostro mondo dove appunto la vita pullula rigogliosissima seppur l'uomo la sta con le sue attitudini devastanti la sta riducendo in fin di vita quindi se solo nella nostra galassia abbiamo 3 4 e 17 miliardi di pianeti stima sicuramente sottostimata figuriamoci nell'universo quando parliamo di galassie il numero a tutt'oggi che non si sa si ipotizza un numero comunque lo posso dare perché gli extraterrestri lo hanno comunicato e loro parlano che il nostro cosmo il nostro cosmo perché poi secondo la loro scienza di cosmi ne esistono tanti quindi il nostro cosmo è composto da 150 mila miliardi di galassie lo ripeto 150 mila miliardi di galassie quindi se prendessimo per buono anche il numero minimo dato dalla nasa di soli 4 miliardi è già una cifra ragguardevole e lo moltiplichiamo per 150 mila miliardi di galassie viene fuori un numero che forse anche difficile dirlo 10 elevato alla non so cosa quindi rimane un solo dubbio la vita c'è sicuramente nell'universo poi per chi studia un po quelle scienze della delle frequenze delle vibrazioni chi ha studiato masareo emoto chi ha studiato altre diciamo sperimentazioni fatte anche dall'italiano massimo citro persona che ho avuto l'onore di conoscere abbastanza di recente e sono stati fatti esperimenti l'acqua ha delle capacità portentose l'acqua parla a se stessa quindi posso desumere io che scienziato non sono ma posso desumere che le acque si parlino cioè trasmettono informazioni da cui poi scaturisce la vita sono stati fatti esperimenti in tal senso fin dagli anni venti hanno dato risultati assurdi si parla di radiazioni particolari o biorradiazioni biofotoni e così via quindi l'acqua parla gli studi di fisica quantistica portati avanti da giuliano preparata e da emilio del giudice hanno dato una nuova visione scientifica anche a quella scienza o ritenuta pseudoscienza che medica che è l'omeopatia e l'elettrodinamica quantistica coerente disciplina sviluppata appunto da del giudice preparata due importantissimi scienziati tra l'altro che fecero una cosa straordinaria riuscirono a rendere diciamo attuabile a piacimento la reazione di fusione nucleare fredda cosa che mandò in terribile paura l'establishment dell'energia perché la reazione nucleare di fusione fredda sarebbe in grado di dare energia infinita e gratuita a pochissimo prezzo a tutto il mondo il che vorrebbe dire l'abbattimento delle multinazionali petrolifere eccetera 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 ma non voglio scantonare dal tema principale quindi la vita c'è sicuramente c'è nell'universo ora il problema rimane ma questa vita anche che esistesse non riuscirebbe ad arrivare fino a noi date le gigantesche distanze che separano le galassie i pianeti i sistemi solari bene ma chi lo dice che il limite della velocità della luce postulato da einstein sia corretto tra l'altro l'idea data dalla fisica relativistica di einstein che lo spazio è un ente geometrico è stata recentissimamente forse una notizia passata inosservata ma una notizia bomba ed è stata una scoperta di un professore italiano e ha scoperto che lo spazio non è geometrico non so michele se tu ricordi i motori dei di star trek della enterprise motori a curvatura no il concetto dei dei buchi di verme cioè la piegare lo spazio avvicinare due zone distanti in modo da raggiungere in breve tempo ebbene questo professore italiano ha scoperto che in realtà lo spazio non è uno spazio geometrico ma è uno spazio fluido cioè lo spazio è un fluido quindi quelle particolari condizioni che si creano quando un mezzo si avvicina alla velocità della luce sono una reazione plastica di questo fluido che all'aumentare della velocità si ispessisce creando una barriera che praticamente rende sempre più difficile all'oggetto di procedere quindi magari applicando la scienza dei fluidi al volo spaziale forse potremmo scoprire delle cose interessanti oppure c'è la fisica quantistica che postula il multiverso l'universo multidimensionale abbiamo saputo nemmeno recentissimamente della macchina di pellizza majorano una macchina che in grado di trasportare materia vivente in un'altra dimensione e di riportarla della nostra quindi in realtà le cose sono andate molto avanti ma c'è un ortodossia che in realtà è un sistema di potere che ovviamente non vuole perdere le posizioni guadagnate non vuole perdere le gigantesche masse di denaro che guadagna ingannando il resto del mondo e quindi andiamo avanti con tutto un ciarpame pseudoscientifico obsoleto è totalmente diciamo inutile per favorire il progresso dell'umanità anzi oggi nell'ambito e all'interno di quella che la dichiarata pandemia lo scientismo dell'arroganza e della violenza vedo che prende sempre più piede e scoperte mediche fatte già secoli fa sono state buttate nel letteralmente nel nel water per non usare una parola peggiore perché si deve portare avanti un certo tipo di discorso che è funzionale determinati poteri e a determinate multinazionali che sappiamo bene quali sono quindi questa barzelletta che non si può superare la velocità della luce è oggi superata da un fatto che forse è sfuggita michele a tanta gente presa sicuramente da problemi più contingenti del quotidiano è che questo problema che per noi non è un problema per me non lo è io le astronavi extraterrestri le vedo fin da bambino ne ho viste così tante che manco le conto più ne ho viste di giorno di notte di metallo di energia di metallo classico tipo acciaio di metallo colorato ho visto di tutto le sfere i dischi volanti veramente ho visto ecco l'unica cosa e ancora non ho visto sono le navi sigariformi ma è estremamente raro vedere in atmosfera questo tipo di oggetto ricordo che george adamski ne ha fotografate varie ma le fotografava con un piccolo telescopio adamsi il grande contattista con un piccolo telescopio a cui aveva adattato una sua macchina fotografica quindi gli extraterrestri sono qui gli extraterrestri sono qui perché oggi semplicemente noi non riusciamo a immaginare cosa possa essere la nostra stessa scienza tra cinquecento anni mille anni duemila anni sempre che ovviamente sopravviviamo allo sfacelo che stiamo combinando nel nostro mondo quindi questi arroganti pseudo scientifici che di scientifico non hanno nulla che creano dei dogmi delle barriere non sono degli scienziati ma sono dei servi di un potere che vuole mantenere il dominio del pianeta e purtroppo anche delle nostre vite dettando dogmi che sono assolutamente ridicoli vorrei ricordare che uno dei padri della scienza moderna il fisico lavoisier si mise a ridere quando gli chiesero se i sassi potevano cadere dal cielo e lui arrogantemente disse beh tutti sappiamo che sassi non possano cadere dal cielo salvo poi magari beccarsi una bella meteora sulla zucca o vogliamo ricordare l'era dei treni a vapore che andavano 20 25 chilometri l'ora gli scienziati dell'epoca dicevano che a 90 chilometri orari velocità per quel tipo di tecnologia impossibile il corpo umano si sarebbe disintegrato quindi fatemi il favore non ditegli nulla velentino rossi se no potrebbe correre dei rischi o gli stessi scienziati nell'epoca diciamo primeve dicevano che lavarsi faceva male salvo poi scoprire che invece lavandosi le mani poteva essere abbattuta nei ginecologi o nelle ostetriche poteva essere abbattuta la mortalità infantile alla nascita quindi oggi qualcuno mi direbbe a ma noi ormai siamo progrediti ma non lo so se siamo progrediti considerando quello che stiamo facendo i poteri che ci dominano le terribili menzogne che vengono avanti gli scandali dell'anset con l'idrossi clorochina eccetera eccetera beh secondo me tanto evoluti non siamo ma siamo una cozzaglia di mentecatti che si fa ingannare dal solito piferaio magico che ci porta verso il burrone ma a tutti i pseudoscientisti e gli esperti fai da te vorrei ricordare un fatto importante dicevo che forse è sfuggito alla maggior parte e cioè che a partire dal 2017 il pentagono quindi la maggiore e più potente autorità militare mondiale proprio quello che ha sempre negato e preso in giro e ridicolizzato la presenza delle astronavi extraterrestri ha ufficialmente ammesso che esiste nel nostro mondo una evoluzione avanzatissima in grado di fare delle manovre che sono impossibili nel nostro spazio fisico secondo la nostra scienza io ho ascoltato decine di interviste dei piloti militari che hanno avuto queste esperienze e i piloti militari vorrei ricordare non sono gente che ha preso il brevetto nella prima scuola di volo in periferia sono ingegneri plurilaureati personale altamente qualificato e non solo psicologicamente testato perché questi signori sempre comunque personale giovane vorrei ricordare film che ci hanno fatto vedere questo mondo tipo top gun o altri è personale psicologicamente testato perché hanno in mano macchine che costano milioni di dollari e con terribili armi a bordo e quindi non ci si può permettere che un pilota va fuori di testa e con le sue bombe montate a bordo dell'aereo possa colpire una città americana quindi il pentagono ammette ufficialmente l'esistenza degli ufo non usa questo termine usa la parola wap che sembra inventata da paperino che vuol dire fenomeno aereo non identificato ma di fatto questi fenomeni sono fisici sono mezzi che possono essere intercettati dai radar sono mezzi che si vedono volare a pelo d'acqua con velocità impossibili e i numeri anche enormi c'è una testimonianza che rilasciano i piloti della presenza di oltre 100 astronavi nel teatro delle esercitazioni della marina militare americana vicino alle coste appunto americane quindi se oggi la maggiore autorità mondiale ammette che esiste una aviazione che a loro praticamente li supera in una in una forma assolutamente inconcepibile e do un numero ad esempio i piloti dei caccia moderni possono sopportare spinte nelle loro manovre massimo di 8 9 g credo e già 9 g siamo in una condizione di grave pericolo ebbene questi oggetti con velocità e manovre che sono state viste da questi piloti e quindi riportate tecnicamente sono in grado di raggiungere spinte fino a 1350 g quindi parliamo di tecnologie fantascientifiche e sono qui sulla terra c'è un altro personaggio che contestualmente a tutto questo discorso ha parlato si chiama christopher mellon è un ex comandante o dirigente dell'intelligence del serato americano e in una intervista notissima in un canale nazionale statunitense mellon ha detto beh il problema dell'esistenza degli ufo a certi livelli non è più un problema lo sappiamo tutti il problema di cui noi discutiamo a quei livelli di potere è chi sono cosa vogliono perché vengono queste sono le domande che si può che si pone le stabi l'establishment quindi se chris mellon in un'intervista pubblica che si può tranquillamente ascoltare su youtube dice così la storia è cambiata siamo visitati da civiltà che hanno tecnologie indubitabilmente in grado di varcare gli abissi gli abissi siderali quindi di fronte a questa situazione ormai conclamata tra l'altro varie volte riconfermata dal pentagono perché ci sono state varie polemiche e i soliti debunker michele che hanno cercato addirittura di ridicolizzare i piloti della marina americana quindi fino a che gli fa comodo i piloti che contestavano la presenza ufo erano un testimone a cui fare riferimento nel momento che i piloti dicono no gli ufo ci sono ecco che di colpo i piloti americani diventano ubriaconi gente che scambia gli ufo per aerei di linea e stupidaggini demenziali di questo livello al che comprendo gli extraterrestri che non atterrano perché qui di vita intelligente ce n'è molto poca ovviamente sono sono ironico quindi michele noi ricercatori io personalmente che come tu brevemente hai citato ho girato il mondo incontrato molti personaggi di quel livello li ho intervistati alcuni mi hanno detto delle cose ma non si sono lasciati filmare e quindi è una realtà che noi sappiamo e conosciamo bene da decenni noi ricercatori ma oggi anche il mondo ufficiale quindi il pentagono lo ammette ma rimane un problema michele un problema su cui secondo me si dibatte poco che il problema del non contatto ora scusate bevo un secondo ora noi abbiamo certezza assoluta che viene dalle testimonianze dalle foto dai filmati dai documenti militari dai contattisti dalla storia moderna da fatti che sono accaduti e di cui le persone sanno poco o nulla che la presenza extraterrestre di fatto ha determinato tutta la geopolitica moderna o perlomeno in buona parte perché non solo questi mezzi ci sorvolano e sono presenti anche nei teatri delle esercitazioni militari ma addirittura ci sono testimonianze che questi mezzi sono spessissimo intervenuti nell'ambito del nucleare militare abbiamo oggi oltre 100 testimoni ex militari della nato quindi americani inglesi altri che hanno testimoniato di essere stati presenti nel momento in cui questi oggetti disattivavano addirittura distruggevano testate nucleari addirittura impedendo in alcuni casi che fossero usate dai due blocchi della guerra fredda ma nonostante questo interventismo mordi e fuggi lo chiamerei degli extraterrestri ancora non atterrano quindi ci sono sono qui abbiamo tutte le prove per dire questo oggi ribadisco a costo di essere prolisso persino il pentagono ammette la veramente stratosferica superiorità dei mezzi extraterrestri ma questi esseri non atterrano cioè non invadono il pianeta vorrei ricordare che la tecnica militare consta nella sua struttura principalmente di tre fasi prima fase spionaggio cioè acquisire dati sensibili sulla potenza nemica che si vuole attaccare e lo spionaggio quindi l'acquisizione di dati sulla potenza nemica può durare anche molto tempo e come ben sappiamo anche dei film 007 e così via lo spionaggio si cerca di tenerlo nascosto occulto affinché il nemico non si renda conto che c'è qualcuno che sta tramando per attaccarlo ma una volta che lo spionaggio raggiunge il suo scopo ecco che scatta la ricognizione la ricognizione invece deve essere veloce perché nel momento in cui tu mandi dei mezzi che possono essere possono essere soprattutto aerei o altro a ricognire il suolo nemico il nemico capisce che sta per essere attaccato e quindi la ricognizione deve essere rapida veloce efficientissima e parte l'attacco quindi noi siamo sicuramente spiati forse da secoli anzi se devo dirlo dal ricercatore da migliaia e migliaia di anni la presenza extraterrestre si perde nella morte dei tempi se valutiamo che abbiamo graffiti rupestri nelle caverne di nio in francia che risalgono credo tra i 15 mila e 17 mila anni fa e quindi questi esseri sono qui da molto tempo ma facciamo finta che di non sapere nulla di questo parliamo dell'era moderna dall'era moderna sappiamo con certezza di essere ricogniti fin dalla seconda guerra mondiale quindi siamo sono oltre 70 anni che siamo spiati siamo ricogniti ma non siamo attaccati il che militarmente parlando è una cosa assolutamente illogica perché se è una civiltà con quel tipo di scienza e di evoluzione attenzione la scienza del volo spaziale quella più importante non è quella dei motori come nei film di fantascienza ci viene fatto vedere la scienza più importante del volo spaziale è la medicina perché mantenere un corpo vivo e in salute nello spazio anche da un punto di vista psicologico un corpo umano ovviamente presenta tutt'oggi delle difficoltà insormontabili cioè noi non abbiamo ancora una scienza abbastanza evoluta e ci stiamo scervellando per trovarla nemmeno per mandare astronauti su marte perché ci sono un sacco di problemi da risolvere in tal senso perché se un astronauta sta male a migliaia o milioni di anni luce o miliardi di anni luce lontano dal pianeta non è che lo porti alla croce verde se sta male o all'ambulatorio medico quindi la scienza spaziale deve essere supportata da una scienza medica assolutamente efficientissima in grado di garantire la salute fisica e psicologica degli astronauti detto questo le evidenze ci dicono che questi esseri sono qui e quindi se hanno una superiorità tecnica perché i loro mezzi ce l'hanno dimostrata e se hanno una superiorità scientifica perché il fatto che ci sono extraterrestri fisici che noi abbiamo appurato essere vero hanno anche la scienza medica necessaria per il volo spaziale quindi se mettiamo insieme questi due aspetti della scienza ecco quindi che rimane il problema michele del non contatto perché ancora non ci incontattano questi esseri è una bella domanda perché non atterrano perché ancora non fermano lo scempio che l'essere umano sta arrecando al proprio pianeta perché non fermano l'orda di pedofili che violenta bambini tutti i santi giorni perché non fermano le multinazionali che inoculano veleni nei corpi delle persone perché 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 ecco questa risposta michele non la troviamo nel mondo della scienza la troviamo in quei comunicati in quei messaggi perché solo loro avendo un'evoluzione enormemente più avanzata della nostra ci potevano spiegare la motivazione di una presenza loro così massiccia nel nostro mondo perché non solo esistono mezzi di altri mondi michele ma esistono in una maniera assolutamente impensabile secondo le logiche della nostra tecnologia anche produttiva cioè noi mandiamo ogni tanto delle sonde robotiche in giro per il sistema solare ma sappiamo bene con dei costi enormi ecco come fanno come sono potenti queste civiltà che possono mandare in un pianeta di un ramo abbastanza remoto della via lattea migliaia di mezzi e quindi piloti quindi logistica quindi alloggi come perché qual è la motivazione solo una motivazione di grandissima importanza può giustificare un discorso di questo genere non solo c'è anche un problema o diciamo un particolare che dobbiamo considerare il problema del potere qui chi è chi è il potere che può dare l'ordine e mandare nel nostro mondo migliaia di mezzi volanti da altri pianeti quindi c'è un potere c'è una gerarchia che ha il potere di fare questo c'è un sistema produttivo che obbedisce a questa gerarchia e quindi costruisce migliaia di di astronavi c'è un un sistema industriale che organizza la logistica quindi le basi di appoggio di questi mezzi perché non è che vanno e vengono dai loro mondi una volta venuti qui hanno e questo è un dato certissimo anche nella ricerca hanno le loro basi nel nostro pianeta anche basi gigantesche ad esempio nel caso amicizia che io ampiamente studiato si parla della base aliena più grande in europa che stava proprio starebbe sotto l'italia ed è una base lunga 300 chilometri praticamente da pescare a rimini situata esattamente in quella posizione lì e larga 150 chilometri metà fino all'appennino e l'altra metà sotto l'adriatico e alta 300 metri quindi gente che in grado di costruire strutture sotterranee perché di questo sto parlando con queste caratteristiche sono personaggi tecnologicamente militarmente scientificamente estremamente potenti eppure non ci invadono convivono con noi si fanno vedere ci danno stimoli e soprattutto ci danno dei messaggi e dei messaggi ci hanno spiegato michele che loro non sono altro che quegli stessi esseri di cui si parla nelle sacre scritture sono gli angeli di ieri gli extraterrestri oggi quindi perché ancora non ci contattano non ci contattano perché loro stanno portando avanti scusate un processo un progetto che concerne un processo di miglioramento della nostra razza umana diciamo non di miglioramento diciamo di selezione cercando di individuare laddove questo ovviamente sia possibile quegli esseri umani che sono papabili per essere nel futuro i costituenti i protagonisti dell'innesto di una nuova civiltà su basi etiche più avanzate nel nostro mondo dopo la catarsi di questo impero morente che se devo dar retta ai movimenti delle truppe che stanno accadendo in queste ore vicino ai confini tra ucraina e russia qui rischiamo che in questi giorni ci alziamo una mattina che è scoppiata la terza guerra mondiale quindi all'interno della grande pandemia che sembra essere il l'unico problema ormai esistente sulla terra si parla solo esclusivamente di questo ma in realtà il resto del mondo del potere si muove come prima peggio di prima cioè sta sfruttando la disattenzione delle masse che sono manipolati abilmente saggiamente in maniera negativa dai media e stanno portando avanti i loro piani di guerra e i piani di guerra che sono stati già pubblicati alla fine degli anni 90 dove il gruppo dei neocon capeggiati da bush ramsfield insomma quella cricca di guerra fondai già disse che era loro volontà distruggere la cina e la russia entro il 2017 poi non ce è stata fatta perché sono accaduto dei fatti per loro inaspettati tipo appunto la riemersione sullo scenario internazionale geopolitico della russia una volta che putin fece quel drammatico discorso a monaco credo nel 2004 di colpo il mondo si sveglia dall'illusione che la russia fosse ormai un paese crollato dopo la caduta del blocco sovietico invece ci riscopriamo un grande attore internazionale dotato di migliaia di missili nucleari e quindi in grado di parlare nei tavoli del potere di dire la sua quindi da allora l'escalation l'abbiamo vista attraverso le sanzioni e tutte quella tutta quella pletora di attività portate avanti dagli stati uniti e dalla nato per cercare di attaccare la russia per adesso solo economicamente ma siccome la cosa non ha funzionato perché la russia si è abilmente grazie al genio di questo presidente vladimir putin che tra l'altro vanta parentele italiane venete e con la sua strategia politica si è alleato con la cina e notizia di pochi giorni fa entrato nella triade anche l'iran cioè nelle in questa alleanza quindi si sta creando uno scenario che terribilmente pericoloso perché l'america non accetta di diventare una potenza mondiale di secondo ordine quindi in questo scenario della pandemia stanno accadendo fatti drammatici dove questi esseri ovviamente sanno bene da tempo che ci si sarebbe arrivati quindi all'interno di tutto questo veramente pandemonio che il pianeta terra a livello di società umana ci sono questi esseri che stanno portando avanti un progetto e questo progetto ribadisco lo possiamo desumere dai loro messaggi e i loro messaggi ci hanno detto che loro non sono altro che gli stessi personaggi di cui si parla nelle sacre scritture quindi loro stanno seguendo appoggiando e indirizzando degli esseri umani anche proteggendoli perché quando questa catarsi sarà terminata il nostro mondo verrà ripulito rimessa nuovo da questi personaggi che hanno le possibilità tecnico scientifiche di farlo anche in tempi relativamente brevi e di innestare finalmente una nuova società e quindi dare inizio a una nuova età dell'oro con degli esseri umani con dei terrestri la cui base etica è incorruttibile quindi loro stanno cercando questo tipo di gente e presiedono alla protezione di questo processo che secondo quanto io so sta per giungere a buon fine e il problema michele che nel momento in cui questo processo giungerà a buon fine loro alzeranno le mani e ci lasceranno fare le nostre scelte cioè non interverranno più e lasceranno ai potenti di portare avanti i loro demoniaci progetti come meglio credono il che corrisponde a quello che le scritture chiamano chiamano l'armageddon apocalittica quindi questo è quello che sta avvenendo questo è quello che dicono loro questi esseri e io che studio da 30 anni tutto questo michele ti posso garantire che le corrispondenze le sinergie sono assolutamente perfette e indubitabili e i segni che hanno dato in tal senso sono assolutamente certi e verificano che quanto io ho appena detto è assolutamente vero quindi il problema del non contatto michele risiede in questo aspetto che chiamerei più che religioso spirituale e per spirituale termine abbastanza logoro e usato spessissimo in una forma non corretta parlo di quella parte dell'essere umano che è la vera natura dell'essere umano cioè quella entità intelligente energetica chiamiamola così che si incarna che fa esperienza per un certo tempo all'interno di un corpo biologico e poi se ne torna da dove è venuta quindi tutta la scienza extraterrestre tutta la scienza del contatto tutta la diplomazia extraterrestre è basata sulle leggi naturali non sui credo religiosi è basata sulle leggi naturali ora siccome noi di queste leggi naturali che presiedono e governano l'evoluzione del mondo spirituale noi non ne sappiamo a livello di massa sto parlando un fico secco ecco quindi che loro non possono presentarsi al genere umano perché il genere umano non capirebbe le loro logiche e le loro logiche sono assolutamente basate sulla scienza dello spirito scienza della materia scienza dello spirito e vorrei leggere in tal senso un comunicato che fu dato eugenio siragusa il mio padre spirituale molti anni fa che leggo testualmente ho scritto il 19 agosto 1982 scienza dello spirito scienza della materia 1982 michele i due aspetti manifestativi e sperimentativi dell'intelligenza onnicreante che è il termine diciamo scientifico usato da questi esseri per definire quell'entità che noi chiamiamo spirito santo questi due aspetti scienza della materia e scienza dello spirito sono i due valori complementari che devono essere in perfetto equilibrio per stabilizzare l'evoluzione delle specie nel processo manifestativo del continuo divenire l'eccesso o il difetto dell'uno o dell'altro aspetto comporta disquilibrio destabilizzazione incompetenza collaborativa e reazione e reazione qui intendiamo autodistruzione quindi in un mondo dominato solo dei valori della materia dove ci scanniamo come americani per le conquiste di territori di potere di economia eccetera 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 siamo oggi nella condizione di un terribile disquilibrio della scienza della materia ma abbiamo anche conosciuto l'eccesso dell'altro polo abbiamo conosciuto l'eccesso cioè la degenerazione della scienza dello spirito vogliamo ricordargli i 500 anni di inquisizione operata dalla chiesa cattolica in europa vogliamo ricordare gli stermini portati nelle americhe dagli europei cattolici cattolico cristiani o di altre confessioni quindi sulla terra noi siamo sempre in difetto siamo sempre in disquilibrio o nella scienza della materia come adesso o nella scienza dello spirito tra l'altro stiamo assistendo michele a un fenomeno allucinante cioè stiamo assistendo alla creazione della religione scientista dove tu non hai più diritto di pensare dove tu non hai più diritto di replica non puoi dire nulla se tu esci dal dogma scientista che di scientifico non ha nulla quindi è un dogma di fatto religioso vieni semplicemente bannato ti venti viene chiuso al canale youtube vieni additato al pubblico pubblico ludibrio nelle tv di stato o in quelle private e così via quindi stiamo degenerando verso la nuova religione dello scientismo basato solo sull'arroganza del potere cioè sulla violenza che quanto di meno scientifico possa esistere quindi questi esseri ci avvisano di questo ora e ci insegnano questo quindi loro per loro lo spirito non è un credo religioso per loro lo spirito è un'entità che conoscono bene sanno bene come funziona e sanno bene a quale tipo di leggi deve obbedire ma questo non sarebbe stato difficile michele capirlo anche noi perché facciamo un semplice ragionamento ad esempio noi sappiamo che laddove nel mondo fisico c'è uniformità che perdura nei millenni stiamo sicuramente assistendo ad una alla manifestazione fisica di una legge quindi siccome da millenni i gravi cioè i pesi cadono dall'alto verso il basso e per secoli non si è saputo nulla della legge di gravità ma essa era operante poi è stata scoperta e quindi da che l'uomo esiste la legge di gravità e operante facciamo entriamo nel mondo umano tutta la storia che noi conosciamo ci dice ci testimonia anche attraverso l'archeologia che tutte le civiltà costruite fino a oggi dall'uomo sono crollate tutte sono crollati i sumeri sono crollati i babilanesi gli titi greci romani e stiamo crollando noi quindi non c'è una sola società umana i faraoni o che ne so io non c'è un i maia i maia se li sono portati via i maia se li sono portati via ma ribadisco non c'è una società umana che non si sia autodistrutta quindi abbiamo una uniformità di eventi che ci indica per la sua stessa uniformità uniformità che diciamo così inattiva la legge matematica delle probabilità tale per cui noi vediamo da secoli le civiltà umane dissolversi sempre quindi è evidente che c'è una legge in opera una legge fisica che determina anche nelle civiltà più potenti una nascita una crescita un apice un decadimento e una dissoluzione ma guarda un po questa cosa ci dice appunto che c'è una legge una legge naturale all'opera poi entriamo nell'ambito di ciò che l'esistenza dell'uomo l'esistenza dell'uomo che io sappia Michele anche all'epoca dei patriarchi dei grandi patriarchi dove la vita era molto più lunga almeno questo dice la scrittura ma di fatto da che mondo è mondo gli esseri umani di qualsiasi razza cetosociale e così via nascono crescono invecchiano e muoiono tranne quelli che ovviamente per questioni di incidenti malattie eccetera magari non riescono a invecchiare però l'urbia umana fin da che esiste a questo processo addirittura il mondo vivente tutto quindi il mondo delle piante il mondo degli animali quindi flora e fauna lo stesso nascono crescono invecchiano e muoiono quindi ci sono dei cicli ripetitivi e da sempre sotto l'evidenza dei fatti che i nostri occhi possono constatare la nostra esperienza diretta e quindi anche lì abbiamo una legge all'opera domanda ma allora i credo religiosi che c'entrano perché nel nostro mondo abbiamo i cattolici abbiamo i buddhisti abbiamo gli islamici abbiamo gli ebrei il mondo appunto della della ebraico l'animismo l'animismo africano abbiamo il taoismo eccetera 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 ma se fossero veri i credo religiosi nelle forme con le quali ci vengono insegnati perché invece le leggi di natura impongono nostro malgrado e qualsiasi sia il nostro credo religioso impongono all'uomo lo stesso iter vivente quindi nascere crescere invecchiare morire quindi credo religiosi di fatto al di là di quelle esteriorità ritualistiche o di ciò che viene scritto nei cosiddetti libri sacri ma di fatto la natura se ne infischia di tutto questo discorso e ci impone quel tipo di iter tutti quanti compresi i vegetali e compresi gli animali quindi c'è una legge fisica all'opera ed è una legge fisica che se ne infischia delle nostre opinioni se ne infischia dei nostri credo e ci impone il nostro malgrado delle cose che forse vorremmo evitare tipo la morte o l'invecchiamento quindi da questo perché ancora non capiamo che c'è un mondo spirituale evidente attraverso ciò che è sotto i nostri occhi che si manifesta perché la stessa legge che ci impone l'incarnazione e ci impone la disincarnazione è ovvio che dominerà in qualche modo anche il mondo del post morte perché la scienza non si avvicina a tutto questo e questo michele il motivo per cui noi non comprendiamo le metodiche di contatto degli extraterrestri perché per loro l'uomo non è il corpo per loro l'uomo è lo spirito intelligenza e i processi e i progetti che questi esseri hanno posto in essere nel nostro mondo riguardano l'uomo spirituale anche poi in merito alla sua componente materiale quindi psicobiofisica chiamiamola così quindi ci mettiamo dentro anche l'anima che è il mondo psichico ma di fatto l'anima e il corpo per questi esseri non sono altro che i due involucri che rivestono il vero essere umano che è l'uomo spirituale quella è l'eterna essenza che si sta evolvendo e che in questo momento nel nostro mondo sta degenerando verso una terribile autodistruzione quindi tutti i protocolli e le metodiche di contatto di questi personaggi che vengono dal cosmo sono basati su questo tipo di conoscenze che noi ancora stiamo diciamo così dei bambini dell'asilo e iniziamo ad esplorare quindi fino a che noi non comprenderemo questo non capiremo il progetto degli extraterrestri ora il mondo è stato messo sotto un pesantissimo gioco le leggi costituzionali vengono calpestate con la scusa di difendere la vita ma domanda perché il mondo non si è fermato per questioni ben peggiori piuttosto che i morti da coronavirus che sono comunque delle percentuali irrisibili certo il virus c'è assolutamente vero è anche una brutta malattia ma oggi le cure sono state trovate e le percentuali di morte l'età media è oltre gli 80 anni ma le guerre la fame la miseria l'ingiustizia sociale provocano molti più morti l'alcol le droghe come mai il mondo non si è mai fermato e nemmeno la società civile si è mai fermata per debellare questi terribili flagelli dell'umanità oggi parlano tutti di questo coronavirus perché c'è attenzione a questo Michele c'è attenzione a questo perché di colpo il bersaglio non sono più gli altri di colpo il bersaglio siamo noi gli occidentali quindi oggi il virus ci fa paura le persone sono terrorizzate anche grazie alla abile manipolazione mediatica ma di fatto l'egoista oppulenta indifferente menefreghista ignava società occidentale non si è mai fermata così come si è fermata oggi e parlo di popolo e di capi politici e di tutti gli altri capi scientifici eccetera che sono rimasti indifferenti allo scempio del mondo anzi scempio del mondo provocato dalle multinazionali che nei decenni passati ci hanno garantito il benessere di cui ancora oggi in parte godiamo e che pian piano si sta erodendo a causa di queste iniziative quindi c'è un po da rivedere tutta la scala di valori perché le cose che stanno accadendo nel mondo dimostrano che l'essere umano non ha ancora compreso cosa sono quei concetti che ritroviamo michele ad esempio nelle grandi religioni orientali il concetto di karma cioè legge di causa ed effetto che è un concetto assolutamente ben presente anche nel cristianesimo posso leggere un paio di passi nel vangelo che sono chiarissimi in tal senso e sono passi che ci fanno comprendere quanto quel discorso fatto dagli extraterrestri che loro sono quegli angeli di biblica memoria in realtà era presente già nel vangelo solo che una religione che nell'arco dei secoli si è corrotta si è prostituita al potere ne ha perso le chiavi di lettura e ha mantenuto il popolo dei fedeli in una condizione abberrante di ignoranza e di sudditanza e di proselitismo andiamo a matteo capitolo 5 versetti 17 17 18 cristo dice non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti non sono venuto per abolire ma per dare compimento in verità vi dico finché non siano passati il cielo e la terra non passerà neppure un iota o un segno della legge senza che tutto sia compiuto ora non mi sembra che dai pulpiti delle chiese si parli di legge si parla di credo si parla di voler bene a gesù si parla che gesù è bravo e buono ma qui cristo sta parlando di legge e la legge determina la profezia la profezia non è un credo religioso la profezia è un'analisi tale per cui partendo dai dati attuali attraverso un calcolo noi possiamo stabilire che cosa accadrà nel futuro questo lo facciamo ad esempio nelle previsioni del tempo noi profettizziamo grazie agli algoritmi matematici e computer che hanno enormemente aumentato la nostra capacità di calcolo profettizziamo il tempo dei giorni successivi ma la mente divina che posso desumere o presumere io abbia potenzialità di calcolo infinita può anche fare calcoli dire oggi la situazione è questa tra duemila anni sia questo e poi c'è un altro motivo che dobbiamo considerare il creatore e anche il legislatore il legislatore che ha stabilito tutte le leggi del sistema che lui ha creato ne capisce meglio di tutti il loro funzionamento quindi se dio ha creato le leggi lui sa benissimo attraverso i processi storici che cosa accadrà nel futuro in base alle leggi che lui stesso ha messo nel sistema da lui creato e che ci sia la legge karmica nel vangelo è chiarissimo andiamo a matteo 26 versetti 51 52 siamo nel gezzemani nel momento in cui il signore viene arrestato quindi entrano le guardie e siccome gesù era alcuni giorni che diceva che sarebbe stato catturato imprigionato e così via gli apostoli si erano armati nell'ingenuo pensiero di poter difendere con le armi il signore ed ecco dice matteo nel capitolo 26 uno di quelli che erano con gesù messa mano alla spada la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio allora gesù gli disse rimetti la la spada nel fodero perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada cioè legge di causa ed effetto se semini gigli raccogli profumi se semini vento raccogli tempesta che sia la legge di causa ed effetto è chiarissimo in altri passi della scrittura andiamo sempre a matteo capitolo 25 ed è il capitolo con cui gesù parla agli eletti e gli dice venite benedetti dal padre mio prendete possesso del regno preparato per voi sino dalla fondazione del mondo perché ebbi fame e mi deste da mangiare ebbi sete e mi avete dato da bere fui pellegrino e mi albergaste ignudo e mi rivestiste infermo e mi visitaste carcerato e veniste a trovarmi quindi causa ed effetto quindi gli eletti non sono quelli che i credenti cosiddetti ipocriti poi nelle cose della vita egoisti ignavi e così via sono coloro che hanno fatto le opere che hanno fatto le opere quindi le azioni e quindi causa ed effetto e c'è ci sono altri passi dove gesù dice ecco io vengo a dare a ciascuno il suo salario secondo le sue azioni quindi la legge di causa ed effetto è ben presente nel vangelo e quindi non è un credo religioso altra sciocchezza secondo me michele mettere la reincarnazione all'interno dei credo religiosi ma come se io tu e tutti gli esseri umani che vivono in questo mondo siamo uno spirito che si incarna in un corpo è un fatto di scienza che c'entra la religione e questo lo ritroviamo in massimo e chiarissimo esempio nella nel capitolo del vangelo di giovanni quando il dottore della legge nicodemo va da gesù a chiedergli come fosse possibile che ma lo leggo che è meglio intanto va beh lo leggo tutto dal dal primo versetto c'era tra i farisei un uomo chiamato nicodemo era uno dei capi dei giudei e gli venne di notte da gesù e gli disse rabbi che vuol dire maestro ora un maestro insegnerà qualche cosa quindi il maestro del tempio nicodemo va da gesù e lo chiama maestro perché riconosce in gesù un livello di conoscenza di preparazione superiore a quello che loro avevano e gli dice rabbi noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da dio questo passo tra l'altro michele faccio un inciso è interessante perché significa che nicodemo quando dice noi sta parlando del sinedrio poi il sinedrio sarà quello che condannerà gesù e cercherà di ucciderlo per mano dei romani quindi in realtà il sinedrio non pensava che gesù fosse un mistificatore un delinquente sapeva bene che era il figlio di dio ma se essendo gesù il figlio di dio significava che la pacchia per i grandi sacerdoti che vivevano aggiatamente sulle spalle del popolo era finita e questa testimonianza di nicodemo è molto importante in tal senso noi sappiamo quindi parla di sé e degli altri grandi sacerdoti che tu sei un dottore venuto da dio perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se dio non è con lui poi qui sicuramente manca qualcosa una domanda che nicodemo fa perché non c'è continuità perché poi gesù dice il passo della scrittura gli risponde in verità in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di dio e qui il sacerdote dice che nascere di nuovo è il battesimo e quindi nascere spiritualmente perché ti vieni battezzato ma in realtà nicodemo non risponde secondo questa logica perché dice ma come può un uomo nascere quando è già vecchio può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere quindi non si sta parlando di battesimo perché il grembo è l'utero quindi nicodemo sta parlando a gesù di reincarnazione e gli chiede se è così dice è vero che lo spirito si reincarna e gesù gli risponde in verità in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di dio e qui va bene uno mi direbbe ecco vedi che c'è l'acqua il battesimo no perché nell'acqua non c'è lo spirito io non ho mai visto uno spirito dentro la fonte battesimale ma ho visto invece giuliano preparata emilio del giudice ho studiato la loro scoperta ebbene questi due scienziati con i loro studi e anche altri ovviamente alla fine la fisica quantistica è arrivata a capire che il nostro corpo in termini liquidi è formato un adulto circa 70 per cento d'acqua ma in termini di molecole il corpo umano è al 99 per cento fatto di molecole d'acqua quindi l'acqua cos'è la materia vivente l'acqua è la componente e la base principale della materia vivente quindi rinascere in corpo e spirito vuol dire reincarnarsi c'è uno spirito che entra nell'acqua fisica e si reincarna e se prendiamo un altro passo del vangelo chiudiamo questo discorso che ci fa capire bene extraterrestri oggi angeli ieri perché cristo nel nuovo testamento quindi nel vecchio testamento questi esseri erano ben presenti e collaboravano all'opera divina andiamo a luca 17 ora interrogato dai farisei su quanto su quando verrebbe il regno di dio rispose loro e disse il regno di dio non viene in maniera che si possa osservare né si dirà eccolo qui o eccolo là perché ecco il regno di dio è dentro di voi ora questo passo del vangelo il regno di dio è dentro di voi si rega un altro passo che dice pensate al regno di dio il resto vi sarà dato in sovrappiù quindi se uniamo questi due due detti del signore se il regno di dio è dentro di noi e se noi tutto ciò che ci serve ce l'abbiamo in sovrappiù cercando il regno di dio cosa dobbiamo comprendere dobbiamo comprendere che il regno di dio è lo spirito e quindi le leggi spirituali che governano lo spirito quindi il signore ci vuole dire laddove voi osserverete le leggi che governano il mondo spirituale le leggi della materia vi daranno tutto quello che vi serve cioè l'abbondanza la salute e così via questo è il mondo è la scienza che ci portano gli extraterrestri questo è il motivo perché ancora loro michele non ci stanno contattando perché stanno selezionando istruendo diciamo così anche proteggendo e vigilando sullo sviluppo di un numero di esseri umani che sono milioni di persone che da loro verranno prelevati lo dice bene san paolo in quel passo che viene chiamato il rapimento della chiesa ma poi la la il prelevamento è anche in altri passi del vangelo che si potrebbero leggere ma ormai il tempo è quasi finito e quindi in realtà questi esseri sono nel nostro mondo per adempire alla profezia del nuovo regno sono i vigilanti sono i collaboratori sono gli istruttori che stanno portando avanti con una scienza anche tecnica da un punto di vista del volo sia nell'ambito atmosferico che in ambito spaziale eccezionale e ce lo conferma il mondo militare appunto il pentagono ma in realtà questi esseri presenti in massa nel nostro mondo stanno presiedendo e stanno vigilando e stanno portando a buon fine quel tipo di semina e anche di processo selettivo che nel vangelo è la separazione del grano dalla gramigna necessario per l'instaurazione finalmente dopo milioni o migliaia di anni di sofferenze inenarrabili di questo suolo di questo piccolo pianeta intriso di sangue del fratello che uccide il fratello stanno preparando le basi e le persone che potranno dar luogo a una società finalmente cosciente delle leggi spirituali finalmente stabilizzata nella scienza dello spirito e nella scienza della materia per dar luogo a un processo infinito evolutivo e positivo quindi il ritorno possiamo anche dirlo così dell'eden nel nel nostro pianeta quindi la fine di quella terribile condizione di fratricida che nella bibbia iniziò con l'allegoria di caino ed abele che presiede a fatti accaduti milioni di anni fa e che hanno a che fare col mondo cosmico ma il tempo michele è quasi finito però ci tenevo soprattutto in questo momento di grande sofferenza dovuta alla pandemia riportare assolutamente ancora per giallo sulla st interrompo e ancora dieci minuti sono tutti contentissimi di sentirti quindi se è ancora qualcosa da aggiungere io sono felice e noi siamo contenti tra l'altro io volevo ne approfitto per ringraziarti ma se che avevi pensato anche a qualche domanda nel caso io sono a disposizione si adesso c'è stata qualche domanda polemica che io sinceramente ho bypassato però la richiesta è quella di approfondire questi temi sono tutti molto interessati perché chiaramente tu hai parlato di cose che uniscono il mondo che noi stiamo condividendo tra l'altro in una dimensione come giustamente citato molto di dolore di sofferenza dove si tiene conto solo di alcuni aspetti non di altri e la è legata a quello che è il mondo più sicuramente più ampio a quell'esperienza cosmica che stiamo facendo e questo sicuramente porta grande informazione e tra l'altro ti avevo appunto chiesto degli aggiornamenti mi pare che li hai portati quindi siamo perfettamente in tema le persone ti stanno ringraziando ci sono un sacco veramente un sacco di di ringraziamenti per il tuo intervento anzi io ti chiedo se ancora qualche cosina da aggiungere io sono felicissimo sì io ho registrato intervistato nuovamente un grande uomo della storia italiana un ex magistrato scampato a un attentato della mafia non faccio il nome per non è forse qui l'ambito adatto ma questo quest'uomo ormai oltre i 70 anni mi ha detto sono disperato perché la società mondiale è alla deriva e sta accettando in nome della della salvezza tra l'altro presunta del corpo sta accettando l'uccisione delle libertà fondamentali degli esseri umani e quest'uomo mi ha detto noi invece dovremmo dare la vita per salvare la libertà non uccidere la libertà per salvare i corpi questo è importante michele vedi dove ci sta portando l'ignoranza della vera natura di cosa siamo noi noi siamo figli di un padre divino siamo eterni siamo l'amore che si è incarnato siamo la luce che diventa carne e sangue questo è venuto a dirci dio è stato detto da decenni che il mondo c'è la terra avrebbe reagito alle violenze dell'uomo gli extraterrestri hanno dato messaggi sul pericolo che si avrebbe rappresentato nel futuro la fauna virale anche se il termine fauna non è esattamente corretto il mondo virale a causa dei terribili squilibri provocati dagli esseri umani quindi che la terra che un essere vivente perché solo la vita può generare la vita la dea madre la grande madre lo spirito della terra sta difendendo perché l'uomo la sta uccidendo uccide sua madre e quindi oggi sì quei vaccini forse qui non voglio entrare in ambiti polemici su questi discorsi magari ci salveremo dal coronavirus ma le persone che oggi sono terrorizzate perché c'è il virus in giro vogliono tornare alla vita di prima ma domando io a voi amici ma la vita di prima era veramente vita una vita fatta di materia una vita fatta di carriera una vita fatta solo di cose materiali di egoismo di indifferenza laddove tra l'altro noi occidentali siamo i maggiori artefici della rovina del mondo quindi certo non si può tornare alla vita di prima se la vita di prima oggi ci ha portato in casa il virus poi qualcuno mi dirà ma viene dal laboratorio di vuan viene da qui viene da lì ma scusate io direi anche questo ma se l'uomo stesso ha fatto questo virus o lo ha manipolato ma l'uomo non è parte della natura quindi se l'uomo stesso impazzisce e la natura che impazzisce perché lo spirito dell'uomo non è odiare lo spirito dell'uomo e amare quindi laddove fosse anche vero e io non sono d'accordo almeno non in toto che sia stato solo un progetto di bill gates e di quella cozzaglia dimenticati criminali che ha in mano il mondo ma anche per colpa nostra che gliel'abbiamo permesso quindi l'uomo è parte della natura noi siamo dentro la natura non siamo fuori dalla natura quindi se l'uomo stesso impazzisce e costruisce o manipola virus o qualsiasi altra cosa l'atomo quello che vi pare la barmellata la nutella fate un po voi e la rende tossica per il sistema natura ma scusate non è la natura che impazzisce e quindi noi ci stiamo suicidando perché se dei pazzi hanno tirato fuori un virus che ha colpito di fatto tutto il pianeta terra tra l'altro non si parla mai dell'africa guarda caso perché in africa sono zeppi di vitamina d e prendono le medicine per la malaria dove c'è l'idrossiclorochina e quindi di lì dell'africa non si parla dove le condizioni igieniche sono certo peggiori delle nostre le condizioni condizioni nutrizionali non ne parliamo eppure non muoiono come noi di coronavirus no no stanno tra l'altro dell'etiopia è massacrata l'etiopia la stanno massacrando la stanno distruggendo non dicono niente esatto quindi michele c'è amici miei dobbiamo ritornare al centro dobbiamo riscoprire dobbiamo ricordarci quali sono i veri valori dobbiamo capire da dove vengono i problemi invece questa attenzione a cercare di risolvere solo gli effetti mantenendo inalterate le cause ma che serve noi non possiamo tornare alla vita di prima noi dobbiamo cambiare dobbiamo cambiare noi esseri umani perché il nostro stile di vita ci ha portato a questo se una persona si ammala di tumore il suo stile di vita che l'ha fatta ammalare deve cambiare vita qualsiasi sia la malattia che colpisce l'essere umano di qualsiasi natura è il tuo stile di vita che ti fa ammalare quindi il nostro stile di vita ci ha causato il coronavirus anche se viene da one siamo noi perché noi siamo la natura noi anche noi siamo la creazione anzi siamo l'espressione dovremmo essere l'espressione più alta della creazione divina invece siamo un branco di scemi un branco di mentecati che vivono solo nell'illusione che la vita sia il corpo fisico invece c'è tutto un mondo spirituale che ci aspetta e che quando noi ci ritorneremo soffriremo tantissimo perché capiremo l'inganno nel quale siamo caduti perché la morte fa parte della natura quindi se la morte fa parte della natura non la dobbiamo tenere perché nel processo della vita la morte tutti siamo nati tutti moriremo solo questione di tempo forse il virus ci succederà prima ma morire si dovrà quindi è più un problema il morire o è più un problema il non sapere cosa ci accade quando moriremo o è un problema il non sapere a quali leggi una volta morti noi saremo sottoposti perché se siamo sottoposti a leggi naturali dal momento che nasciamo saremo sottoposti a leggi naturali anche dopo che moriamo e ci sono scoperte posso citare lo scienziato tedesco albert fritz pop nel 1976 pensate 76 pop scopre che il corpi umani emettono luce biofotoni li hanno chiamati quindi noi siamo luce oggi c'è oggi ci sono apparecchiature scientifiche che addirittura la luce emessa dal corpo luce pulsante la possono filmare lì e chiudo citando albert fritz pop quello che ha scoperto i biofotoni oggi sappiamo che l'uomo in sostanza è un essere di luce oh ma guarda ce lo dice uno scienziato da migliaia di anni ce lo dicevano i mistici allora scienza michele scienza del giro assolutamente la moderna scienza di fotobiologia sta attualmente dimostrando questo in termini di guarigione le implicazioni sono immense ora sappiamo per esempio che i quanti di luce sono in grado di avviare o arrestare reazioni a cascata nelle cellule e che un danno cellulare genetico può essere virtualmente riparato in poche ore da deboli fasci di luce siamo ancora sulla soglia di comprendere a pieno il complesso rapporto tra la luce e la vita ma ora possiamo dire con forza che la funzione di tutto il nostro metabolismo dipende dalla luce è fantastico guarda intanto luce eterna che viene dall'amore di un essere meraviglioso che ci ha creato e gli sputtiamo sulla faccia rovinando la sua divina creazione ma lui ci può vaccinare la luce hai perfettamente ragione questo è stupendo allora prima abbiamo avuto proprio daniele gulla che ci ha raccontato allo saluto daniele c'è un video che lui ha fatto che io mostro quando parlo di queste cose dove lui con le sue straordinarie macchine questa luce la film biofotoni fantastico sì 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 infatti un caro saluto ah beh se seguirà questa cosa ma poi sarà un motivo di di ringraziamento per tutti naturalmente anche di mettere tutti quanti voi in rete perché è stata veramente una giornata meravigliosa adesso tra un po abbiamo con noi la paola che si sta per collegare pierre sono arrivati un'infinità io mi permetto di chiamarti pierre perché ti chiamano tutti così molto affettuosamente michele anzi se mi chiami in modo diverso chiudo il collegamento subito sei anche simpatico oltretutto tra l'altro hai una carica incredibile c'è veramente ti faccio i complimenti da parte di tutti il tuo entusiasmo la tua forza è anche un motivo di riferimento per gli altri che in questo momento hanno bisogno di trovare un consiglio michele magari se tu lo facessi lo stavano appunto chiedendo che si chiama jan stevenson che si è interessato in modo scientifico anche secondo una logica di indagine da tribunale poliziesca che ha investigato sulla reincarnazione questa luce che siamo noi con i suoi vari strati e campi può trasportare nella vita successiva effetti fisici che sono quegli effetti fisici che poi sono malformazioni cicatrici eccetera che sono gli effetti karmici quindi il karma stesso travalica il post mortem e riporta gli effetti delle cause generate dall'essere umano nel nuovo corpo di quella entità che magari ha compiuto dei delle infrazioni alla legge e le riporta come disordine fisico disordine psichico quindi stiamo parlando di scienza ecco perché gli extraterrestri ci parlano della scienza della materia della scienza dello spirito siamo un unicum corpo e spirito si parlano e si parlano attraverso i quanti di luce che ha scoperto il dottor pop certo no le cose che dici non sono 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 fantastiche ne parla anche braia uesi grandi autori attuali hai detto cose meravigliose hai raccontato cose che fanno molto piacere perché tra l'altro mettono in evidenza non solo le tue competenze le tue conoscenze ma il fatto che ancora oggi quel rapporto tra fisica classica e fisica quantistica mette in dubbio le teorie sulla relatività quindi l'idea che davvero si possa andare oltre la velocità della luce attraverso il fenomeno dell'etanglement lo aveva detto bombe e aveva anche avuto ragione per entrare un po in conflitto con einstein quando nel 1930 1940 loro si sono frequentati e hanno discusso proprio di questi temi cioè del fatto che è la velocità della luce poteva essere superata il fenomeno dell'entanglement ne spiega assolutamente la dimensione dico questo intervistamo un astrofisico russo e lui ci disse ma noi osserviamo normalmente oggetti volare nell'uno nello spazio a velocità super luminali cioè a velocità molto superiori a quelle della luce quindi anche un fatto acclarato visivamente solo che con la congiura del silenzio e con la difesa di certi potentati dell'ortodossia scientifica legate a informazioni e scoperte ormai superate obsolete e queste cose alla gente non arrivano come questa scoperta di pop che potrebbe addirittura far sparire l'industria farmaceutica perché si può curare con la luce cosa che tra l'altro gli extraterrestri hanno detto da decenni vedi bene che tipo di opposizione hanno queste scoperte assolutamente grazie pier grazie ti richiamo con con questo simpatico con questa abbreviazione quindi pier senti grazie davvero di tutto il tuo intervento è stato meraviglioso grazie di tutto veramente per la tua disponibilità e per quest'ora e qualcosa e qualche minuto in più che ci hai regalato io spero di poterti vedere di nuovo e presto tra un po c'è la tua amica paola che si sta collegando amore e affetto perché paola è una persona ti sta sentendo è una meraviglia e siamo felicissimi grazie dell'affetto a te e grazie per il tuo no soprattutto per i tuoi aggiornamenti io ti avevo chiesto quelli e tu mi pare che nei dati parecchi quindi se ne hai dati tantissimi grazie grazie e grazie a te grazie mille ciao 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 amici Grazie.